Ed eccoci, siamo di nuovo in diretta per continuare a raccontarvi l'evento del giorno, ovvero i funerali di Silvio Berlusconi, funerali di Stato che verranno celebrati tra poco più di un'ora proprio dall'arcivescovo della città, Monsignor Delpini. Ci saranno naturalmente presenti tante personalità del mondo della politica, dello spettacolo, dell'imprenditoria, dello sport, perché lo abbiamo detto Silvio Berlusconi è stato un uomo davvero a tutto tondo, ma non solo grandi personalità, anche gente comune, cittadini accorsi a dare l'ultimo saluto, a omaggiare una personaggio che ha segnato la storia d'Italia negli ultimi 30 anni. Lo ha fatto anche nel mondo dello sport, in quello del calcio, soprattutto naturalmente con il Monza, la ultima scommessa vinta, ma con il Milan che ha portato sul tetto d'Europa e del mondo più volte. Ne parliamo oggi con l'ospite che è venuto a trovarci qui in studio, Giancarlo Padovan, che saluto e che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Valentina, buongiorno a tutti. Ciao a te Giancarlo. Ecco, insomma, che cosa dire del grande Milan di Berlusconi? Parlano innanzitutto i numeri, 31 anni di presidenza, 29 trofei, 5 Champions League e 8 campionati. È stato secondo te il presidente non solo più influente nella storia del calcio italiano, ma proprio a livello globale, più ad esempio di un altro grandissimo, mi riferisco a Santiago Bernabeu. Sì, ha vinto tanto, ha vinto tantissimo, ma non è quella la cosa più importante. La cosa più importante è che, come dice il titolo, ha cambiato il calcio, ha cambiato il calcio italiano, ha cambiato il calcio europeo, perché ha detto vincere non mi basta, io voglio convincere, fare spettacolo, dare spettacolo. La mia squadra deve essere questa, ed era un proponimento che aveva dal primo istante in cui ha preso il Mila, che ha poi trasformato quando ha preso Sacchi, e c'è riuscito, c'è riuscito nonostante la visionarietà della situazione. Allora in Italia si giocava un calcio ancora in cui la zona e lo zonismo era lontano, lo spettacolo era un di più, l'importante era il risultato e basta. Con lui, con lui, con Sacchi, poi anche con altri allenatori, Capello Ancelotti, è arrivato tutto il resto, è arrivato oltre alla vittoria, la splendida esibizione calcistica che metteva in campo la sua squadra, il pressing alto, la zona pressing cosiddetta, pressing alto, la riconquista della palla e le tante soluzioni da gol. Ma è cambiato anche il modo di preparare una partita, dai ritiri che erano più brevi alle famose crostate, le crostate di Milanello, cioè l'alimentazione, è cambiato tutto nel calcio italiano e il calcio italiano si è ispirato a questo visionario perché ha visto che le sue visioni le sapeva poi trasfondere nella realtà. Ecco, possiamo dire che il detto juventino, quello di Boniperti, cioè vincere l'unica cosa che conta, non si addice per niente a Berlusconi che certo otteneva dei grandissimi risultati ma come hai detto tu Giancarlo, attraverso il bel gioco, attraverso l'estetica, attraverso il movimento anche del gruppo e non solamente del singolo, da che cosa derivava secondo te questa ossessione per il lato estetico? Beh, il fatto che il presidente aveva una cultura del tutto, completamente legata all'estetica, per lui doveva il calcio e anche le televisioni dovevano rispondere a dei canoni precisi di estetica e di emozione soprattutto e quindi derivava dalla sua cultura, derivava dal suo bagaglio proteiforme che non era solo quello di uomo di televisione, di spettacolo, di comunicazione ma era anche uomo di cultura. Sapeva, ecco, sapeva molto individuare quello che poteva essere il gusto del pubblico e aveva capito che in quel momento prendendo una squadra di calcio avrebbe potuto fare una rivoluzione culturale più profonda ancora di quella che avrebbe potuto fare e che fece con le televisioni. Ecco Giancarlo, tu hai utilizzato un aggettivo visionario che hanno usato anche tantissimi giocatori, esatto, soprattutto i giocatori che sono stati insomma sotto la sua presidenza, hanno detto proprio con quella capacità di guardare oltre, ma tra tutti gli aspetti, la gestione del gruppo, la gestione anche del calciomercato, insomma in che cosa secondo te Berlusconi è stato particolarmente avanti per l'epoca? Beh nel cambiare le regole, nel cambiare le regole, lui ha cambiato le regole della televisione passando da, passando, mettendo a rischio e rompendo un monopolio che era quello di Rai, è stato un uomo che ha cambiato il calcio cambiando le regole, non quelle del gioco che sono 17, come pochi sanno, ma le regole di ingaggio, ingaggio vero e proprio dei giocatori e le regole della rappresentazione del gioco e poi ha cambiato anche, poi quando è sceso in politica, anche le regole della politica, ma non interessa l'aspetto calcistico e per quanto riguarda l'aspetto calcistico la sua idea era l'innovazione, cioè bisogna fare qualcosa perché il calcio negli anni 70 e 80, prima del suo avvento, stava un pochino morendo, non dico morendo perché il calcio non muore mai, ma languendo, stava languendo, con il suo arrivo a un'improvvisa rinascita e questa rinascita è dovuta al fatto, grandi giocatori, grandi uomini e innovatori. Ecco sì, stava un pochino languendo e lui diciamo che l'ha rivitalizzato e ci sono anche delle immagini magari che testimoniano questo come l'elicottero, il famoso elicottero con cui arrivò all'arena nell'86 con appunto i primi acquisti del suo calciomercato, ecco questa impronta, imprinting spettacolare che proprio lui importava dal mondo dello show business applicato anche al calcio, questo è stato assolutamente rivoluzionario a livello di immagine. Tu hai detto Giancarlo ha portato in Italia tantissimi campioni, era un innamorato dei fantasisti, degli attaccanti, tanti palloni d'oro, insomma potremmo elencarne molti, faremmo torta qualcuno ecco perché sono... Dimenticandone qualcuno. Esatto, dimenticandone sicuramente qualcuno, ma ti chiedo ecco, quale è stato secondo te il suo pupillo? Il giocatore che ha amato di più e in seconda battuta ti chiedo quale giocatore invece avrebbe potuto portare al Milan e non ci ha riuscito? Quello che avrebbe potuto portare al Milan e non ci ha riuscito è Maradona, sicuramente lui avrebbe voluto, amato e vezzeggiato. Quello che dice di essere stato amato di più è Savicevic, che era un di più in quel Milan perché il Milan aveva già Van Bast, Gullit, Raikkonen e Savicevic delle volte non sapevi dove farlo giocare perché un po' era trequartista, un po' nel 4-4-2. Un progetto di discussione anche con Capello. Con Capello, eccetera. Sicuramente quello che lui ha difeso di più e che voleva di più era Savicevic, secondo me. E poi lui ha difeso di più, voluto di più, ha insistito di più per un sistema di gioco. Il 4-4-2, meglio, la difesa a 4 e poi lui avrebbe voluto tanto che i suoi allenatori lo assecondassero nella scelta del trequartista. Quattro difensori, tre centrocampi visti, un trequartista, due punti. Ecco, questa era l'idea di gioco di Berlusconi. Ecco, Giancarlo, hai detto una frase chiave, cioè avrebbe voluto che i suoi allenatori lo assecondassero nella sua idea di gioco. E qui, ecco, subentra il concetto della interferenza, dell'ingerenza di Berlusconi nei confronti proprio delle scelte degli allenatori. È una leggenda o è realtà che Berlusconi dettasse la formazione? La dettava, ma non veniva sempre ascoltato, anzi, più delle volte secondo me non veniva ascoltato perché ha sempre avuto allenatori di personalità, di carisma, risoluti, con la schiena dritta, come si dice, e lo ascoltavano perché ascoltare è sempre utile. Qualche volta magari, già perché l'avevano in testa, facevano anche la formazione che lui snocciolava, ma Berlusconi non è mai stato così invasivo. Io conosco, ho conosciuto allenatori che dettavano la formazione, la mandavano via fax, allora c'era il fax, la mandavano via fax all'allenatore e volevano quella, e se non metteva quella, magari era seguita da una sconfitta, lo esoneravano. Ecco, queste sono le fasi più folcloristiche del calcio. Berlusconi si è sempre vantato di capire di calcio, ha affrontato il tema delle formazioni con i suoi allenatori, ma i suoi allenatori alla fine hanno sempre fatto quello che hanno voluto, anche perché gli hanno quasi sempre portato vittorie. Sacchi racconta, lo raccontava sulla gazzetta di ieri, ma era un fatto risaputo, che qualche volta ha litigato con Berlusconi perché dice, vorrei fare il Presidente e mi lascia fare quello che voglio, oppure mi mandi via. E lui non l'ha mandato via, fino a quando lo ha difeso, soprattutto quando le cose non andavano bene, quindi lui credeva negli uomini che aveva scelto e gli dava completa fiducia. Ecco, io torno un attimo all'inizio Giancarlo, cioè al concetto di bellezza applicata all'utilità, perché oggi ci sono un po' queste espressioni che vengono utilizzate, cioè i giuchisti opposti ai risultatisti. Ebbene, diciamo che questa diatriba in Berlusconi in realtà non esisteva, perché il gioco e la bellezza del gioco era finalizzata poi al risultato. Ma secondo te, ecco, qual è stata la partita manifesto dello stile berlusconiano? Ma direi la finale di Champions League con lo Steau a Bucharest, che al di là del valore dell'avversario, un avversario che era arrivato in finale ma che non era nell'elite del calcio mondiale, ha dimostrato la forza, la straordinarietà del gioco berlusconiano. Un'altra partita molto importante da non dimenticare mai è il 5-0 dato al Real Madrid senza Evani, con il giovane Albertini che in allenamento aveva toccato duro Evani, Evani dovette saltare quella partita e all'esterno di sinistra giocò Ancelotti. Il Milan finisse 5-0 contro Real Madrid, una prova di forza e di bellezza fuse insieme che non hanno forse più avuto imitatori o ripetizioni. Eh, forse possiamo citare anche la finale di Atene contro il Barca. No, la finale di Atene, ecco io citavo queste due perché erano dell'era sacchiana, diciamo il calcio unanimemente definito più bello e riconosciuto più bello da FIFA e UEFA. E certamente anche per le condizioni nelle quali il Milan si presentò senza Baresi e Costa Curta alla finale di Atene contro il Barcellona sembrava la vittima sacrificale per la qualità del gioco e il potere del risultato e il sovvertimento del pronostico sicuramente Milan-Barcellona 4-0. Ecco, Giancarlo, quando si parla di Milan si parla di Berlusconi e viceversa, però c'è un altro abbinamento che è giusto citare, cioè quello di Berlusconi con il Monza, la sua ultima scommessa vinta, insomma una squadra che per la prima volta è approdata in Serie A grazie appunto ai suoi investimenti e alla sua visione. Adesso si apre un punto di domanda sul futuro, che cosa accadrà al Monza senza Berlusconi? Ma io credo, anche da quello che ho potuto appurare, che per il primo anno non succeda niente, cioè che da qui, dalla prossima stagione fino alla fine della stagione non succeda niente. Ma Berlusconi e la famiglia erano già entrati nell'ordine di idee di cercare un partner e questo partner se ne erano fatti avanti alcuni ed erano al vaglio un po' della famiglia di Berlusconi stesso e io credo che ora con la scomparsa del Patriarca ci sia via libera per l'acquisizione della società, ma non sarà una cosa a mio giudizio immediata, sarà una cosa molto molto graduale, quindi che si realizzerà nel 2024, magari verso aprile, maggio, giugno, verso la fine della stagione e sarà molto delicato come passaggio perché il Monza, come il Mila, è considerato un gioiello di famiglia. Il Mila naturalmente ha portato molto di più, molto più lustro, ma il Monza dalla Serie C è arrivato alla Serie A, quest'anno è arrivato nella parte sinistra del tabellone, giocando bene e sfiorando la partecipazione alle coppie europee, anche il Monza è un patrimonio che non andrà disperso e che vorranno sia gli eredi, sia il fratello, sia l'amministratore delegato Galiani che su questa squadra, su questa società rimanga il marchio di fabbrica di Berlusconi perché non ha creato il Monza ma lo ha fatto andare in Serie A dove non era mai arrivato. E tra l'altro aveva detto Berlusconi, io voglio portare questa squadra a vincere lo Scudetto, era una boutade, diciamo, delle tante che ha pronunciato Berlusconi nel corso della sua avventura nel mondo del calcio, venivano considerate boutade come quelle all'inizio dell'era Milan, io cito Costa Curta che diceva, quando lui è arrivato ha detto io vi porterò sul tetto d'Italia, d'Europa e del mondo, noi non ci credevamo. Questa scommessa secondo te nel Monza l'avrebbe vinta? È un calcio diverso anche quello di adesso rispetto a quello di Berlusconi, per arrivare in cima all'Italia, cioè davanti a tutti i misi allo Scudetto, bisogna essere più attrezzati di come era il Monza, o è il Monza adesso, perché Berlusconi aveva fatto questa opera di amore nei confronti del Monza, ma non aveva speso molto, ma non erano le cifre che servivano per far vincere il Milan. Ecco, quindi il calcio adesso è molto cambiato, forse, forse in Italia ci sarebbe riuscito, forse, ma in Europa e nel mondo ovviamente no, perché altrimenti avrebbe replicato quel gigantismo milanista che a un certo punto l'ha indotto a uscire dalla società, esattamente come aveva fatto un altro mecenate, e cioè Massimo Moratti. Certamente, ecco, mi hai dato un assist Giancarlo a proposito del nuovo corso del Milan. Tra l'altro Berlusconi è scomparso in un momento un po' particolare, anche per il club rosso-nero, no? Perché pochi giorni prima avevamo assistito all'addio commovente di Zlatan Ibrahimovic, ma soprattutto al ribaltone societario con l'uscita di scena di Maldini e di Massara, e invece ecco, una nuova ormai impronta imprenditoriale anche che si affaccia a un'impronta di stile americano, basata più sull'algoritmo che sulla passione. Ecco, questo nuovo Milan a Berlusconi sarebbe piaciuto? Non credo, ed è per questo che ho detto c'è un nuovo modo di fare calcio. Il nuovo modo di fare calcio è dei fondi di investimento, il nuovo modo di fare calcio è degli algoritmi, cioè per cui il giocatore si sceglie in base all'algera, alla matematica e non in base all'occhio umano, non gli sarebbe piaciuto perché pur essendo stato un uomo degli eccessi, almeno inizialmente, questo è un calcio enormemente eccessivo, del tutto eccessivo, e poi lui non avrebbe mai ammainato una bandiera. Si diceva di Berlusconi che comprava tutti i giocatori, poi non ne voleva mandar via neanche uno, teneva dei giocatori palesemente a fine carriera inutili, ma erano parte della famiglia e quindi io credo che da questo punto di vista lui se avesse scelto Maldini non l'avrebbe mai ammainato. in verità non l'ha mai scelto, un po' perché non l'ha potuto scegliere, perché Maldini è stato un suo giocatore fino a poco tempo fa possiamo dire, e poi perché c'era il fedelissimo Galliani che è stato un'altra bandiera del Milan, come lo è del Monza, che gli ha fatto vincere per molte cose, perché se Berlusconi è stato la mente, Galliani e Braida, soprattutto negani milanisti, sono stati il braccio che ha eseguito e scelto i giocatori migliori. Certo, scelto i giocatori e anche gli allenatori migliori. Sugli allenatori forse voleva avere lui la prima zia, voleva avere lui la precedenza. Forse il feeling maggiore è stato quello con Sacchi, lo ha dichiarato anche lo stesso tecnico proprio nell'intervista a cui facevi riferimento sulla Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato che quando l'ha scelto ha detto lei o è un genio o è un pazzo, perché Sacchi appunto veniva dalla Serie B, dal Parma, non aveva mai giocato neanche a calcio e la prima volta che si sono incontrati hanno parlato per tutta la notte insieme a Galliani proprio di tecnica, di tattica, di gioco. E poi c'è stata l'era Capello. Ecco, Fabio Capello ha detto bisognerebbe fare come a Madrid, cioè bisognerebbe intitolare lo stadio a Silvio Berlusconi come il Real ha fatto appunto con Santiago Bernabeu. Secondo te è un'ipotesi plausibile? Mi riferisco al nuovo impianto. Naturalmente se ci sarà un nuovo impianto. Hai ragione. Questo San Siro, Giuseppe Meazza, non si può intitolare a nessun altro se non a quelli che lo hanno già intestato e quindi non si può cambiare. Si può eventualmente, ma anche volontariamente, intestare invece il nuovo stadio. Se ci sarà, quando ci sarà, a Silvio Berlusconi sarebbe un grandissimo omaggio da parte di qualsiasi proprietà, cioè qualsiasi proprietà deve riconoscere. Dovrebbe riconoscere la sua grandezza. A meno che non prevalga il business, perché adesso ormai lo stadio ha sempre il nome dello sponsor, più che dei grandi personaggi che ne hanno caratterizzato la storia. Il Milan potrebbe, dovrebbe fare un'eccezione, perché siamo di fronte a un'eccezione. Berlusconi è stato un'eccezione in tutti i sensi e lo è stato soprattutto nel calcio. Ecco, chiudiamo come abbiamo aperto Giancarlo, cioè Berlusconi, Silvio Berlusconi, un uomo che ha rivoluzionato non solo il Milan, appunto, ma il calcio italiano. Qual è la sua lezione più importante e che cosa dovrebbe apprendere oggi il calcio italiano dall'era e dallo stile Berlusconi? Guardare avanti, guardare oltre, guardare tra dieci anni, fra vent'anni, guardare senza porsi ostacoli in mezzo, perché gli ostacoli sono tutti alibi. Benissimo. Giancarlo, io ti ringrazio moltissimo per essere intervenuto in questa giornata così importante. Ringraziamo Giancarlo Patovan per questo ritratto appunto del Silvio Berlusconi, uomo di sport, uomo di calcio. Adesso ci prendiamo una breve pausa pubblicitaria, poi naturalmente torniamo in diretta per continuare a raccontarvi di questa giornata così importante con i funerali di Stato in Duomo di Silvio Berlusconi.